La distruzione dell'uomo Vorrei sapere soltanto se il signor giudice istruttore ritene buona fede di aver trovato una sola ragione che valga a spiegare in qualche modo questo che gli chiama assassino premeditato e sarebbe semmai doppio assassino perché la vittima stava per compiere felicemente l'ultimo mese di gravidanza. Si sa che Nicola Pettix si è barricato in un silenzio impenetrabile prima davanti al commissario di polizia appena arrestato poi davanti a lui voglio dire al signor giudice istruttore che inutilmente tante volte e in tutte le maniere si è provato a interrogarlo e infine anche davanti al giovane avvocato che gli hanno in posto d'ufficio visto che fino all'ultimo non ha voluto incaricarne uno di sua fiducia per la difesa. Di questo silenzio così ostinato si dovrebbe pur dare mi sembra una qualche interpretazione dicono che in carcere Pettix dimostra la smemorata indifferenza ad un gatto che dopo aver fatto strazio ad un topo ad un pulcino si raccolga beato dentro un raggio di sole ma è chiaro che questa voce la quale vorrebbe dare a intendere che Pettix consumò il delitto con l'incoscienza ad una bestia non è stata accolta dal giudice istruttore se egli ha creduto di dover ammettere e sostenere la premeditazione dell'assassinio. Le bestie non premeditano se s'appostano il loro agguato è parte istintiva e naturale della loro naturalissima caccia che non le fa né ladri né assassine. La volpe è ladra per il padrone della gallina ma per sé la volpe non è ladra ha fame e quando ha fame acchiappa la gallina e se la mangia e dopo che se l'è mangiata oddio non ci pensa più. Ora Pettix non è una bestia e bisogna vedere prima di tutto se questa indifferenza è vera perché se è vera anche di questa indifferenza si dovrebbe tener conto come di quel silenzio ostinato di cui a mio modo di vedere sarebbe la conseguenza più naturale corroborati come sono l'una e l'altro dall'esplicito rifiuto di un difensore. Ma non voglio anticipare giudizi né mettere davanti per ora la mia opinione. Seguite a discutere col signor giudice istruttore. Se il signor giudice istruttore crede che Pettix sia da punire con tutti i rigori della legge perché per lui non è uno scemo feroce da paragonare a una bestia né un pazzo furioso che per nulla abbia ucciso una donna a poche settimane dal parto. La ragione del delitto di questo assassino premeditato quale può essere stata? Una passione segreta per quella donna? No. Basterebbe che il giovane avvocato d'ufficio mettesse sotto gli occhi ai signori giurati per un momento un ritratto della povera morta. La signora Porrella aveva 47 anni e a tutto ormai poteva somigliare tranne che ha una donna. Ricordo di averla veduta pochi giorni prima del delitto sulla fine d'ottobre a brazzetto del marito cinquantenne un pochino più piccolo di lei ma col suo bravo pancino anche lui il signor Porrella per il viale nomentano sul tramonto nonostante il vento che sollevava in calde raffiche fragorose le foglie morte. Posso assicurare sulla mia parola d'onore che era una provocazione la vista di quei due fuori a passeggio in una giornata come quella con tutto quel vento tra il turbine di tutte quelle foglie morte piccoli sotto gli alti platani nudi che armeggiavano nel cielo tempestoso con l'insipido intrico dei rami. Buttavano i piedi allo stesso modo nello stesso tempo gravi come per un compito assegnato forse credevano che di quella passezzata non si potesse assolutamente fare a meno ora che la gravidanza era agli ultimi giorni prescritta dal medico consigliata da tutte le amiche del vicinato seccante forse sì ma naturalissimo per loro che quel vento insorgesse così di tratto in tratto e sbattesse furiosamente di qua e di là tutte quelle foglie accartocciate senza mai riuscire a spazzarle via e che quei platani là poiché a tempo avevano rimesso le foglie ora a tempo se ne spogliassero per rimanere come morti fino all'avventura primavera e che là quel cane randagio fosse condannato da ogni fiuto del naso a fermarsi quasi a tutti i tronchi di quei platani e ad alzare con esasperazione un'anca per non spremerne che poche gocciole appena dopo essersi rigirato più e più volte smaniosamente per cercarne il verso giuro che non a me soltanto ma a quanti passavano quel giorno per il Viale Lomentano sembrava incredibile che quello Minolà potesse mostrarsi così soddisfatto di portarsi a spasso quella moglie in quello stato e più incredibile che quella moglie si lasciasse portare con un'ostinazione che tanto più appariva crudele contro se stessa quanto più lei sembrava rassegnata allo sforzo insopportabile che doveva costarle barellava ansimava aveva gli occhi come induriti nello spasimo non già di quello sforzo disumano ma dalla paura che non sarebbe riuscita a portarne fino all'ultimo quel suo ingombro o ceno nel ventre che le cascava è vero che di tanto in tanto abbassava su quegli occhi le palpebre livide ma non tanto per vergogna le abbassava quanto per il dispetto di vedersi obbligata a sentirla quella vergogna dagli occhi di chi la guardava e la vedeva in quello stato alla sua età vecchia ciabatta ancora in uso per una cosa che pareva tanto infatti tenendo per il braccio il marito avrebbe potuto con qualche strizzatina sotto sotto richiamarlo dalla soddisfazione a cui spesso e con troppa evidenza si abbandonava d'essere lui pur così piccolino e calvo e cinquantenne l'autore di tutto quel grosso guaio lì non lo richiamava perché era anzi contenta che avesse il coraggio di mostrarla lui quella soddisfazione mentre a lei toccava dimostrarne vergogna mi pare di vederla ancora quando a qualche raffica più violenta che la investiva da dietro si fermava sulle tozze gambe larghe a cui si attaccava la veste che gliele disegnava sconciamente mentre davanti le faceva pallone allora ella non sapeva a qual riparo correre prima con il braccio libero se abbassare cioè quel pallone della veste che rischiava di scoprirla tutta davanti o se tener per la falda il vecchio cappello di velluto viola alle cui malinconiche piume nere nasceva col vento una disperata velleità di volo ma veniamo al fatto vi prego se avete un po' di tempo di andare a visitare quel vecchio casone in via Alessandria dove abitavano i coniugi Porrella e anche in due stanzette del piano di sotto Nicola Pedix è uno di quei tanti casoni tutti brutti a un modo come bollati col marchio della comune volgarità del tempo in cui furono levati in gran furia e la previsione che poi si riconobbe errata di un precipitoso e strabocchevole affluire di regnicoli a Roma subito dopo la proclamazione di essa terza capitale del regno tante private fortune non solo di nuovi arricchiti ma anche di illustri casati e tutti i sussidi prestati dalle banche di credito quei costruttori che parevano per più anni in preda a una frenesia quasi fanatica andarono allora travolti in un enorme fallimento che ancora si ricorda e si videro dove erano antichi parchi patrizi magnifiche ville e di là del fiume orti e prati sorger case e case e case interi isolati per vie eccentriche appena tracciate e tanti all'improvviso restare ruderi nuovi alzate fino ai quarti piani a infracidar senza tetto con tutti i vani delle finestre sguarniti e fissato ancora in alto ai buchi dei muri grezzi qualche resto dell'impalcatura abbandonata annerito e imporrito dalle piogge e altri isolati già compiuti rimaner deserti lungo intere vie di quartieri nuovi per cui non passava mai nessuno e l'erba nel silenzio dei mesi rispuntare ai margini dei merzopiedi rasenti ai muri e poi esile tenerissima abbrividente a ogni soffio d'aria riprendersi tutto il battuto delle strade parecchie di queste case poi costruite con tutti i comodi per accogliere agiati inquilini furono aperte tanto per trarne qualche profitto all'invasione della gente del popolo la quale come può bene immaginarsi ne fece in poco tempo tale scempio che quando alla fine con l'andar degli anni cominciò a Roma veramente la penuria degli alloggi troppo presto temuta prima troppo tardi rimediata poi per la paura che teneva tutti di far nuove costruzioni a causa di quella solenne scottatura i nuovi proprietari che le avevano acquistate a poco prezzo dalle banche sussidiatrici degli antichi costruttori falliti facendosi ora il conto di quanto avrebbero dovuto spendere a riattarle e rimetterle in uno stato di decenza per darle in affitto a inquilini disposti a pagare una più alta pigione stimarono più conveniente non farne nulla e contentarsi di lasciare le scale con gli scalini smuzzicati i muri oscenamente imbrattati e le finestre delle persiane cadenti ai vetri rotti imbandierate di cenci sporchi e rattoppati stesi sui cordini ad asciugare se non che adesso in qualcuna di queste grandi e miserabili case pur tracotare inquilini rimasti a compir l'opera di distruzione sulle pareti e sugli usi e sui pavimenti qualche famiglia decaduta o di ceto medio impiegati o di professori ha cominciato a cercare ricovero o per non averlo trovato altrove o per bisogno o per amor di risparmio vincendo il ribletto di tutto quell'erciume e più della mescolanza con quello che si dio mio prossimo è non si nega ma chi pur certamente poco poco che si ami la pulizia e la buona creanza dispiace aver troppo vicino e non si può dire del resto che il dispiacere non sia contraccambiato tanto è vero che questi nuovi venuti sono stati in principio guardati in cagnesco e poi a poco a poco se hanno voluto esservisti ma in male hanno dovuto acconciarsi a certe confidenze piuttosto prese che accordate ora in quel casone là di via Alessandria quando avvenne il delitto i coniugi Porrell abitavano da circa 15 anni Nicola Petix da una decina ma mentre quelli da un pezzo erano entrati nelle grazie di tutti i più antichi casigliani Petix sarà attirato al contrario sempre più l'antipatia generale per il disprezzo con cui guardava a cominciare dal portinaio ciabattino tutti senza mai voler ordignare non chiedo una parola ma neppur di un diavecenno di saluto nessuno ho detto veniamo al fatto ma un fatto è come un sacco vuoto non si regge se ne accorgerà bene il signor giudice istruttore se come pare vorrà provarsi a farlo reggere così senza prima farci entrare dentro tutte quelle ragioni che certamente lo han determinato e che lui forse non immagina neppure Petix ebbe per padre un ingegnere spatriato da gran tempo e morto in America il quale tutta la fortuna raccolta in tanti anni laggiù con l'esercizio della professione lasciò in eredità un altro filuolo maggiore di due anni di Petix e ingegnere anche lui con l'obbligo di passare mensilmente al fratello minore vita natural durante un assegnino di poche centinaia di lire quasi a titolo dell'emosina e non perché gli spettassero di diritto essendosi già mangiata come era detto nel testamento tutta la legittima lui spettante in un ozio vergognoso l'ozio di Petix sarà bene intanto che non venga considerato solamente dal lato del padre ma un po' anche da quello di lui perché Petix veramente frequentò per anni e anni le aule universitarie passando da un ordine di studi all'altro dalla medicina alla legge dalla legge alle matematiche da queste alle lettere alla filosofia non dando mai è vero nessun esame perché non si sogna mai di fare il medico l'avvocato il matematico il letterato il filosofo Petix non ha voluto fare in verità mai nulla ma ciò non vuol dire che se ne sia stato in ozio e che quest'ozio sia stato vergognoso ha meditato sempre studiando a suo modo sui casi della vita e sui costumi degli uomini frutto di queste continue meditazioni un tedio infinito un tedio insopportabile tanto della vita quanto degli uomini fare per fare una cosa bisognerebbe star dentro alla cosa da fare come un cieco senza vederla da fuori o se no assegnarle uno scopo che scopo soltanto quello di farla ma si dio mio come si fa oggi questa e domani l'altra o anche la stessa cosa ogni giorno secondo le inclinazioni o le capacità secondo le intenzioni secondo i sentimenti o gli istinti come si fa il guaio viene quando di quelle inclinazioni capacità e intenzioni di quei sentimenti e istinti seguiti da dentro perché si hanno e si sentono si vuol vedere da fuori lo scopo che appunto perché cercato così da fuori non si trova più come non si trova più nulla Nicola Petix arrivò presto a questo nulla che dovrebbe essere la quintessenza di ogni filosofia la vista quotidiana dei cento e più inquilini di quel casone lercio e tetro gente che viveva per vivere senza saper di vivere se non per quel poco che ogni giorno pareva condannato a fare sempre le stesse cose cominciò presto a dargli un uggia un'insofferenza smaniosa che si esasperava sempre più di giorno in giorno soprattutto intollerabili gli erano la vista e il fracasso dei tanti ragazzini che brulicavano nel cortile per le scale non poteva affazzarsi alla finestra su quel cortile che non vedesse quattro o cinque in fila chinati a far lì i loro bisogni mentre addentavano qualche mela fradicia o un tozzo di pane o sull'acciottolato sconnesso dove stagnavano pozze d'acqua putrida seppure era acqua tre maschetti buttati carponi a piare d'onde e come faceva pipì una bambinuccia di tre anni che non se ne curava grave ignara e con un occhio fasciato e gli sputi che si tiravano i calci gli sgraffi che si davano le strappate di capelli e gli strilli che ne seguivano a cui partecipavano le mamme da tutte le finestre dei cinque piani mentre ecco la signorina maestrina dalla faccetta sciupata e dai capelli cascanti attraversava il cortile con un grosso mazzo di fiori dono del fidanzato che le sorride accanto petix aveva la tentazione di correre al cassetto del comodino per tirare una rivoltellata a quella maestrina tale e tanta furia di indignazione gli provocavano quei fiori e quel sorriso del fidanzato le lusinghe dell'amore in mezzo alla stomachevole oscenità di tutta quella sporca figliolanza che tra poco quella maestrina si sarebbe anche lei adoperata ad accrescere ora pensate che da dieci anni ogni giorno Nicola Petix assisteva in quel casone alle periodiche immancabili gravidanze di quella signora porrella la quale arrivata fra nausee trepidazioni e patimenti al settimo o l'ottavo mese ogni volta rischiando di morire abortiva i diciannove anni di matrimonio quella carcassa di donna contava già quindici aborti la cosa più spaventevole per Nicola Petix era questa che non riusciva a vedere in quei due la ragione per cui con un'ostinazione così cieca e feroce contro se stessi volevano un figlio forse perché diciotta anni addietro al tempo della prima gravidanza la donna aveva preparato di tutto punto il corredino del nascituro fasce cuffiette camicine bavaglini vestine lunghe infiocchettate pedalini di lana che aspettavano ancora ad essere usati ormai ingialliti e stecchiti nella loro insaldatura come cadaverini ormai da dieci anni tra tutte quelle donne del casamento che figlio avano a più non posso e Nicola Petix che a più non posso odiava questa loro sporca figliolanza si era impegnata come una sfida quella a sostenere che la signora Porrella avrebbe questa volta fatto un figlio e lui a dir di no che neanche questa volta l'avrebbe fatto e quanto più premurose con infinite cure e consigli e attenzioni quelle comavano al ventre della donna che di mese in mese ingrossava tanto più lui vedendolo di mese in mese ingrossare si sentiva crescere l'irritazione e la smania negli ultimi giorni d'ogni gravidanza alla sua fantasia sovraeccitata tutto quel casone si rappresentava come un ventre enorme travagliato disperatamente dalla gestazione dell'uomo che doveva nascere non si trattava più per lui del parto imminente della signora Porrella che doveva dargli una sconfitta si trattava dell'uomo dell'uomo che tutte quelle donne volevano che nascesse dal ventre di quella donna dell'uomo quale può nascere dalla brutta necessità dei due sessi che si sono accoppiati ebbene l'uomo volle distruggere Petix quando fu certo che finalmente quella sedicesima gravidanza avrebbe avuto il suo compimento l'uomo non uno dei tanti ma tutti in quell'uomo per fare in quell'uomo la vendetta dei tanti che vedeva lì piccoli bruti che vivevano per vivere senza saper di vivere se non per quel poco che ogni giorno parevano condannati a fare sempre le stesse cose e avvenne pochi giorni dopo che io vidi i due coniugi Porrella per il viale Nomentano tra il turbine di quelle foglie morte buttare i piedi allo stesso modo nello stesso tempo gravi con punti come per un compito assegnato la meta della quotidiana passeggiata era un pietrone oltre la barriera dove il viale svoltando ancora una volta dopo Sant'Agnese e restringendosi un poco declina verso la valle della Niene ogni giorno seduti su quel pietrone si riposavano dalla lunga e lenta camminata per una mezz'oretta il signor Porrella guardando il ponte fosco e certamente pensando che di là erano passati gli antichi romani la signora Porrella seguendo con gli occhi qualche vecchia cercatrice di insalata tra l'erba del declivio lungo il corso del fiume che appare lì sotto per un breve tratto dopo il ponte o guardandosi le mani e rigirandosi pian piano gli anelli attorno alle tozze dita anche quel giorno voglero arrivare alla meta nonostante che il fiume nonostante che il fiume per le abbondanti piogge recenti fosse in piena e stralipato minacciosamente sul declivio quasi fin sotto a quel loro pietrone e nonostante che seduto su questo come se stesse ad aspettarli scorgessero da lontano il loro coinquilino Nicola Petix tutto aggruppato e raccolto in sé come un grosso gufo si fermarono scorgendolo contrariati e perplessi per un istante se andare a sedere altrove o tornare indietro ma quello stesso avvertimento di contrarietà e di diffidenza li spinse appunto ad accostarsi perché sembra loro irragionevole ammettere che la presenza invisa di quell'uomo e anche l'intenzione che pareva in lui evidente d'essere venuto lì per essi potessero rappresentare qualcosa di così grave da rinunziare da quella sosta consueta di cui la pregnante specialmente aveva bisogno Petix non disse nulla e tutto si svolse in un attimo quasi quietamente come la donna si accostò al pietrone per mettervi sia a sedere egli la ferrò per un braccio e la trasse con uno strappo fino all'orlo delle acque stralipate là le diede uno spintone e la mandò ad annegare nel fiume grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti